Nessuno parla più con nessuno, infatti non parlava apposta perché nessuno parla più con nessuno. Qual è il senso? Il senso è proprio che nonostante il volume di conversazioni sia nettamente maggiore al passato, il volume di informazioni intime veicolate è nettamente inferiore. Per esempio, adesso che stiamo facendo questo video, io di te non so neanche che misura porti di boxer, eppure ci si dice che siamo amici, conoscenti, conoscenzia e con questo cosa volevo dire? E' questo il succo della canzone, che nonostante uno dica tante cose per realtà non dice niente con la canzone, con ospiti Danzio e Fabri Fiebers.